Principe, a te Etta! Principe, venga qui tra i proletari! Beh, dopo Bertinotti è venuto il Principe, è interessante! Ruscoli, Elsa, ti puoi fermare al quinto scalino che ti voglio fare? Al quinto? Al quinto perché ho bisogno, attenzione! Attenzione! Giovane! Al quinto scalino, mi raccomando, al quarto! Elsa! Elsa! Io non vi la faccio! Ma che si passa! Scusa! Principe, eh! Aspetti, eh! Principe! 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 Guardi verso i proletari! Verso Bertinotti! Verso Bertinotti! Certo è passato prima Bertinotti ma i Principe! Bellissimo! Maria Pia! Maria Pia! Puoi fermarti un momento? Vorrò farti la misa! Grazie! Giovane! 編 letto, per raccozione il giallo Raquel! Grazie! Grazie! иц